Salve ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube, siamo tornati con Metal Gear Solid Ground Zeroes e dopo aver fatto la prima missione Ground Zeroes abbiamo sbloccato altre varie missioni, compreso i 2 DLC. Questa volta tocca alla seconda missione secondaria che è elimina le minacce di giustizia e iniziamo con la nostra missione. Dobbiamo eliminare questi due obiettivi. Ricordati, boss, questa è una missione di scuola. Se hai detectato, i targeti dovrebbero prendere più precauzioni. È cruciale che evitare i targeti rapidamente e tranquillamente. Do not let the enemy see you. Professo progettivo Questa è la riga. Ci sono contattata delle contattazioni di Columbia. Non lo orvi, questa è una cosa che tienfissi avec le doornhamento. The map has been updated. Get down. I sent VI's of the targets to your eye droid. Take a good look. A presto. A presto. Ah fantastico. L'obiettivo è eliminare i target, solo chiedendole o mettendole a dormire non lo finirà. Gli altro è ma...fantastico. Che poi io me lo so sempre chiesto, ma che intelligenza andare di giorno con la tuta di infiltrazione nera? Sono fantastico, ci sono più nemici rispettare prima. C'è un ruolo che si tratta. C'è un ruolo che si tratta. Am I? Extracting one of the targets. You can tell me why later, but now take out his money. Secondo obiettivo, e' esattamente in quella torre. I've sent VI's of the targets to your eye droid. Take a good look. Let's go. Let's go. Obiettivo ora sta scendendo. Magnifico. Piano altro c'e'a. Ammeno lo distraggo, e posso oltre passare l'ostacolo. Grazie a tutti. Il topo è sparito e è ricomparso lì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All fireteams, this is CP. We lost a security camp. There's no reason for it to be down. Whoever's closest, go check it out. CP, this is Zulu-10. We'll investigate ASAP. Approach. Spit it out. The map has been updated. Fantastico. 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 Posso farcela senza farmi sentire. Mezzo a uno di cose ci dovrà essere obiettivo. No. Here. No problem. That's target A. Glass. Take him out. The map has been updated. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 You're extracting the target? I guess you can either stick him on the chopper or move him outside the mission area by land. Do you have a helicopter? Please select a landing zone. Landing zone confirmed. Chopper request. It's headed your way now. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. così quando viene l'elicottero non viene attaccato si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.